Bene, eccola qui. Chissà chi ci abita. Non ne ho idea, ma l'indirizzo è questo. Ho tenuto d'occhio la zona per qualche giorno. La casa è vuota. Eccoci qui. Wow. È chiusa. Dai, proviamo insieme. Pronto? Spingi! 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 Ma che diavolo? Sembra una specie di sarcofago. Sì. Guarda qua. Questo posto è pieno di sarcofaghi. Sarcofagi. Sam. È autentico. Cos'è questo posto? Beh. Andiamo a scoprirlo. Guardami, Nathan. Chi sono? Ma è il dottor Livingston, dai! Un figurino. Quindi, dove andiamo? Eh? Se potessi andare ovunque nel mondo. Tu sceglieresti? Ovunque? Ovunque. Beh, allora... Vediamo... India. Sì, alla scoperta del Taj Mahal. Giro, giro, tondo. Unione Sovietica. Andiamo a Mosca. Potremmo avere qualche problemino a entrare. È il mio sogno vedere la Piazza Rossa. Riproviamo. Inghilterra. Non sarebbe male vedere il castello di Windsor. Giusto, Sam? Ehi. Ehi, non guardare me. Non è colpa mia se non eri ancora nato. E comunque anche io ricordo poco. Insomma, non era questo granché. Sì, sì. Ok. Ultimo giro. Brasile. Ora sì che si ragiona. Il fascino misterioso della foresta amazzonica. E il fascino degli indigeni con le frecce avvelenate. Sì, sì. Anche quello. Samurai. Riconosci anche l'emblema? Il fiore di Malvarosa si lega... Vediamo. Zitto, non suggerire. Al clan Tokugawa. Bravo. Esatto. Dai. Ciao. Viore di Malvarosa si promotando il Mystico. meanwhile